Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonoSport07 Siamo qui con il rassunto dei quartieri di finale di Champions League 2020-2021 Chi ha visto accedere alle semifinali? PSG, Real Madrid, Manchester City e Chelsea Quindi due inglesi ragazzi, questo comunque per me è un dato molto molto importante Di cui un inglese si spera andrà in finale, anche se non si scontrano tra di loro Ringrazio il buon Antonio ragazzi per le pulsate Detto questo noi non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo subito col video, vamo ragazzi E partiamo con Borussia Dortmund, Manchester City Manchester City che batte il Dortmund, il Dortmund che quando Haaland comunque non è troppo in giornata Si dimostra Haaland dipendente, Haaland è da leggermente prima della sosta nazionale Che sta segnando con meno continuità, quindi insomma bisogna un po' risvegliarsi Proprio nel momento decisivo di Haaland, Borussia Dortmund ha cominciato a pareggiare in campionato Quindi in centrale tutto il suo di lui è stato forse un po' troppo sbagliato Certo pagano anche l'assenza di Giadon Sancio, però c'è da dire che il City di Guardiola ha vinto senza punto ragazzi Perché se vedete come l'hanno messi in campo è davvero incredibile Mi ricorda tantissimo la Spagna del 2012 che ha battuto l'Italia praticamente con 6 centrocampisti in campo 3 in centrocampo e 3 in attacco, qualcosa veramente di assurdo City che dimostra di essere in questo momento secondo me addirittura la favorita per vincere la Champions League ragazzi Per la prima volta in semifinale sotto la gestione Guardiola Per la seconda volta in semifinale nella propria storia 5 anni dopo l'impresa di, diciamo impresa ragazzi, giusto per tirare un tiro a favore Di Manuel Pellegrini che aveva battuto, udito udito, è proprio il Paris Saint Germain Quindi attenzione ragazzi perché si prospetterà veramente uno scontro epico secondo me In semifinale, comunque Dortmund che dimostra di essere all'indipendenti Ma che comunque esce a testa alta da questa Champions League E stanno arrivati comunque ai quarti di finale che diciamo è lo stesso, è un ottimo traguardo Da dimenticare invece questa stagione per il Liverpool in Premier League Sta lottando per l'accesso alla Champions League Nelle coppe praticamente a quanto so è già uscita da tutte le coppe nazionali Ed è uscita anche dalla Champions Certo paga il fatto che molti giocatori stanno infortunati Che hanno giocato praticamente tutta la stagione con Kabak titolare Quegli scarti lì è vero Alexander Arnold è comunque calato All'andata ha fatto dei regali al Real Però ragazzi il Real per quel che aveva in campo si è dimostrato il più forte Anche il Real così come il Liverpool non è che aveva tutti disponibili Certo il Liverpool ha tutta la difesa decimata ragazzi C'ha solo i terzini titolari Per il resto ha tutta la difesa decimata Ragione per cui io dico sempre Prima di criticare la Juve che comunque è calata La Juve comunque una supercoppa a casa l'ha portata Ed è in finale di Coppa Italia Ed è comunque momentaneamente terza a meno uno dalla seconda Il Liverpool che veniva da una Champions League vinta Una Premier League vinta Ok stagione ipercondizionata dalle infortuni Ma così come per il Liverpool Penso che anche per la Juve a giro si sono infortunati tutti Il che è ancora peggio Cioè almeno il Liverpool, Kabak e Philips In sei mesi dei titolari che hanno fatto Più o meno si sono intesi e tutto La Juve neanche questo Ecco perché a volte giustifico l'operato di un allenatore Comunque alla prima esperienza che è Pirlo Quindi insomma danni fino a un certo punto Il Liverpool ha tenuto testa finora Quarti di finale Ok ha buttuto il Lipsia anche agevolmente Però davanti al Real Che ha una strapotenza incredibile Davanti alla crescita incredibile di giocatori come Vinicius Si è dovuta arrendere Quanti rimorsi Quanti rimorsi Invece per la Juve Perché voleva beccare il Chelsea Che del tutto Non mi è passato È una squadra irresistibile il Chelsea Probabilmente non lo sanno neanche loro Come si trovano in semifinale di Champions Comunque C'è da dire È vero che il Chelsea Diciamoci la verità Ha affrontato squadre abbastanza Diciamo semplici Non vorrei dire nulla Un Atletico Madrid Che comunque Per me È da un po' di mesi Che è molto sotto tono Champions compresa Ha beccato Il momento della stagione sotto tono Che proprio non doveva capitare In questo periodo Perché ha anche ridotto Il vantaggio in campionato Da 9 punti A un punto sul Real E due sul Barcellona Quindi qualcosa Veramente di incredibile Quanti rimorsi comunque Per la Juve Che ha dovuto beccare un Chelsea Comunque alla portata Ragazzi È più che alla portata Secondo me Comunque Nonostante il Chelsea Ha fatto veramente 300 milioni di acquisti Perché tra Avers Werner Ziyech Chilwell L'ingaggio di Ritago Silva Ragazzi Ha fatto veramente Grandissimi colpi Il Chelsea Poi hanno anche Abraham Giroud Hanno veramente Un parco attaccante Incredibile Non fanno tanti gol Ho notato Hanno chiuso Il discorso all'andata E poi al ritorno Si sono un po' chiusi Cioè io non ho visto Una partita aperta Perché comunque ragazzi Io la partita bene o male Se riuscito a vederla Comunque Quanti rimorsi Per la Juve Il Porto comunque Ha cercato di dimostrare Il suo valore Ma niente Si ritroverà nel semifinale Con il Real Mentre l'altra semifinale Sarà PSG Manchester City Anche se con L9 Sarebbe stata un'altra storia Ragazzi Lewandowski È mancato in entrambe Le gare Sia l'andata che il ritorno E questo Probabilmente ha stancito L'uscita definitiva Del Bayern Monaco Dalla Champions League Comunque ragazzi Chi è il cretino Che deve accettare Di essere la riserva Di Lewandowski Ci può muting ragazzi Che non è chissà Chi attaccante Ma per farvi capire Se al PSG Ci sono un parco attaccante Incredibile Quali Icardi Mbappé E ora l'altro E Ken Ragazzi Un parco attaccante Incredibile È perché Mbappé Gioca a sinistra Non è che sia la riserva Precisa di Mbappé E comunque Se si riposa Mbappé Ok Al Bayern Non si riposa mai Lewandowski Non riusciresti mai Ad essere titolare Al fianco di Lewandowski Al PSG sì Perché con i cambi modulo Mbappé e Neymar Sono diciamo le ali E uno ti va a fare la punta Anche se ieri giocavano Di Maria Drax Era Mbappé e Neymar Tutti insieme Quindi insomma Per me con Lewandowski Sarebbe stata un'altra storia Deve un po' risolvere Questo problema Nel Bayern Perché sostituire Lewandowski È impensabile Però c'è questo problema qui Che appena lui c'è via Pareggi in campionato E col PSG In due partite Non riesci a qualificarti Il che ci può stare Senza Lewandowski Ma il non avere una riserva Comunque buona Per una squadra Comunque campione d'Europa Ovvero Ciuco Moting Che non mi sembra Tutto questo attaccante Può essere un problema Detto questo ragazzi Il video Termina qui La mia analisi Termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Dimmi da lasciare un mi piace Caso contrario Un dislike Commenti se siete d'accordo O disaccordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscriviti al canale In descrizione Il link preso con me Su Instagram Da Monosport07 È tutto E noi Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi E noi Grazie a tutti